ciao allora è arrivato un messaggino no, una capella don 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 allora una pazza si, decisamente che è giuditta lewison non lo so ci ha inviato delle no, delle cosine delle cosine da un po' io, lo so, te sei pazza si, veramente dici veramente come ricambiare perché assolutamente va bene allora vedete com'è pieno ma veramente l'abbiamo spicciato subito si, si, si prima di pranzo ho subito direi guardare allora che ha? due mascherine per il viso per maschere effetto sauna antistress per perli miste a zona T azione purificante alla terra rossa calda letto ganso che si scaldano quando li metti sul viso queste tra un pochino verranno usate che che praticamente è partito tutto perché quando chiedevo delle cose per i brufoni lei mi aveva consigliato delle cosine di Lush e fatta effetto me l'ha inviata però giuro mi sento una scroccosa ci ha inviato questo che è erba libera di Lush è un detergente fresco per il viso praticamente spazia via impurità e brufoni con il potere delle erbe calma la pelle arrossata per un viso finalmente fresco e pulito l'ho provata subito anche io e l'odore è sempre cioè tutto naturale sa tanto di rosmarino tantissimo mi sentivo un arrosto no però è vero calma subito la pelle ti senti fresco i brufoni sono meno rossi si poi è uscita la nube bianca le T3 la fumantina per il viso e sono ben tre perchè una non bastava sono queste da sciogliere nell'acqua e fare i fumenti si dice da noi vabbè metti il viso con la T3 con la T3 non c'è asia non ci dovrà mai aspetta che mi casca non si vedrà mai eccolo vedete questa ombra è la T3 con l'acqua calda ci metti il viso sopra e dovrebbe purificare poi questo che è la Long Lasting oh difficile non si fa più lo staccio come faccio penso che l'ho arrivato prima l'hai riuscita anche bene 0,1 quella bianca sì ora se la metto sulla mano sul capello ecco difficile e non è finita aspettate sono un carista questi smaltini per la decorazione delle unghie dell'essence della collezione tribal summer sono bellissimi il giallo è carino da morire il rosè nero vedremo perchè per ora ho provato solo quello la catarighina qua ero troppo curiosa poi l'ombretto di un essence della collezione me and my ice cream che è il colore colore non lo so però e questo con carino eh quanto sfida tantissimo vai che carino e per la cronaca noi non avevamo trovato infatti volevamo le perline no ah te volevi quelle illuminanti sono per avere questa la lasciamo scocciata tanto gel tint di essence la 02 deep red perchè ne abbiamo un'altra aperta allora sta chiusa sennò poi ci viene l'istinto non ci leviamo neanche lo scotch così uno smalto della pupa bellissimo spettacolare il 718 presumo o n 004 non lo so è blu che è spettacolare gli smalti blu ci mancano sembra fatto apposta e l'ultimo che è mascara ehm mai mascara volume full color ho letto l'inglese della Deborah Milano ahahahahah ahahahahah c'è cosa ti dobbiamo dire? ahahah cioè ora sono arrabbiata ahahahahah ahahah non è possibile quanta roba ci hai mandato? infatti sei pazza dalle gare ahahah veramente ahahah davvero sulle stesse parole non c'è come ringraziarti sì perché un po' di imbaraccio veramente fatto troppo sì no addio questo faccione che mi viene messa così mi devo mettere un po' un po' così ok con i capelli bagnati sì vabbè facciamo perdere la Cristina da leoncino che avevo io insomma giuditta davvero dicci come come ricambiare no perché tanto teniamo sotto sequestro l'indirizzo veramente troppo ahahahahah ahahah così non ne avevo calcolato questa cosa non ne avevo calcolato che non sarà mai abbastanza una rabbia troveremo è una promessa una minaccia una minaccia molto minacciosa vabbè niente ti ringraziamo veramente di cuore tanti lobbini davvero che carina sei troppo carina veramente grazie mille ancora sì ciao grazie